Ancora una volta il Natale viene a scuoterci dal torpore, viene a svegliarci, viene a ridarci una speranza nuova. Un bambino in una casa porta gioia, porta anche serenità, porta calore. Così vorrebbe Gesù bambino entrare nei nostri cuori per risvegliarli, per portare calore, per portare gioia anche a quelle persone che si sentono sole, anche a quelle persone che forse si sentono dimenticate. Gesù ci aiuti veramente a trovare una speranza nuova. Gesù che viene nel mondo vuole fare della nostra vita qualcosa di bello. Ecco, aiutiamolo in questo progetto. Buon Natale a tutti. Grazie.